Al mio via, potrete spegnere la casa e aggirarvi per quella casa che avete amato e odiato vedendola spegnere le sue ultime luci. Via! Vediamo, vai! Andiamo! Grazie! Posso fare l'ultimo saluto alla piscina? Vai! Ciao piscina! Sei stata il mio psicologo! Mi hai liberato sempre, mi hai dato un sacco di momenti di pausa. Qui cosa ti ricorda? Ma dai, tutte le docce più sexy sono avvenute qui. Però nella mia. Forse anche la mia. Ce l'ho fatta resistere. Avevo troppa pancia per fare una doccia sexy. Va bene, Jessie. La cucina, il mio regno. Il tuo regno. Il tuo posticino. Il tuo posticino. Che ringrazio perché mi ha confortato tante volte. La mia tavola da surf, il mio carrello, la cucina. Poi un momento, due secondi di raccoglimento qui ci fa fare. Ammirazione verso la questa cucina. E adesso non c'è chi si stemerà. Chiamiamo Manila per l'ultimo giro. Chiamiamo Manila. Ciao Manila. Manila. Confessionale. Aspettacolare. Aspettacolare. Jessie qua ti chiedo di stare con me un secondo. Perché questa camera per me è stata importantissima.